In tema di sottrazione di minori da parte di un genitore per portarlo all'estero, l'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità una mozione. Cosa chiedete? Noi chiediamo che venga dato seguito a un disegno di legge che ora è in Senato, che si occupa proprio di tutelare i minori letteralmente rapiti da uno dei genitori, molto spesso non il genitore affidatario. In violazione delle norme e anche in maniera illecita perché sentenze che hanno dichiarato la permanenza del minore in Italia non vengono rispettate. È una grande soddisfazione perché da parte di tutta l'Assemblea c'è stata una richiesta di approfondimento sulla tematica in quarta commissione e la mozione proposta dalla sottoscritta è stata poi sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri, per cui anche in aula ha avuto un buon accoglimento. Sono in procinto di estendere la stessa richiesta agli altri consiglieri regionali di altre regioni perché è importante che da ogni regione venga su una tematica così condivisa come quella della tutela dei minori parta dal basso una richiesta. Purtroppo sono numerosi casi anche nella nostra regione, non solo casi dichiarati ma anche casi sommersi che non sono segnalati ma senz'altro presenti.